Sì, stiamo parlando, non era in casa, ma c'è un appello bene. Torrile? Guarda la faccia contenta. Sto lasciando l'appello, vero? Fatto l'appello? Quanti ne mancano? Ma ce l'hai tutti e 36? Tutti e 36? Tutti vivi a che ora? A vecchi acci, state zitti! Dicevo, prima che inizia questa spendita festa del quarantennale del nostro diploma, quarantennale, 1973, 2013, applauso! Barra Quassoni! Proverei a fare un appello, un appello nel senso di vedere le presenze in questa nostra scena. Allora, Angeli Filippo c'è? Deve arrivare. Annibali Francesco! Alzate, alzate! Barchetta Giuseppe! Bedori Fabrizio! Bedò, dove stai? Alzate in piedi! Piedi! Idocchi Carlo! Do sta Gerletto? Eccolo! Gerletto! Broccolo Maurizio! Un attimo che mi riprendo da solo! Ce sto! Grazie! Già fatto! Cacelunghe Mauro! Do stai? Eccolo! Ecco! Cricco Claudio! Cricchè, dove stai? Bratini! Damiani Francesco! Schizzo! 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 De Dominiscio Alberto! Eccolo lì, Umbertone nostro! Dordoni! Dordoni Alberto è assente! Allora, ho messaggiato con Alberto, è in mezzo Stati Uniti, perché tutti sapranno che Alberto ha fatto una bella carriera, nel senso che credo che oggi sia colonnello! No, 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 generale, generale, generale della Roma! Allora, ma avanti! Continuo, allora, Fradini Gabriele, è assente e forse arriverà, Cammaroda Giorgio, eccolo! Poi abbiamo Lorenzetti Carineo, Bernardo, circa, questa è la terza, la quarta cena che facciamo, penso che già sempre ormai, quando lo vediamo, lo fischierete! Esatto! Mariottini Piero! Pipino! Dov'è Pipino? Martichari Roberto! Grazie Roberto! Ah! 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 Mi ha fatto male! Ah! Ve la ricordate? Ah! Moscone Roberto! Ecco, Roberto! Antone è nostro, onori Mario, arriverà, arriva, arriva, Pennessi Francesco, lo eccolo! Salvucci Faudo, detto Cessira! Allora, se, senza Antonio, ad Antonio un doppio grazie, visto la presenza, l'importante è che non è così, però si è appassionato questo! Giorgio, 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 un attimo, prima della ripresa d'Antonio, inquadra? Vando, Ciacche, per ricordare? Ciacche! Vando, grazie ancora, bravo, sei stato un caroccio veramente! Ci vedevo, per io! Serangeli Patrizio! Patrizio, ecco! Natri, imboscato delle ferrovie! Desto Pastorizio! Desto Pastorizio! Poi abbiamo Serangeli, Antonio, Desto! Tutto buone! Tutto buone! Tutto buone! Tutto buone! Tutto buone! Tutto buone! Allora, poi passiamo a Silvestri Alvaro! Natri, imboscato delle ferrovie! No, 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 no! Ma dobbiamo dire grazie per i filmini che è riuscito a fare e a poi ricongiungere soprattutto quella della scena del 1993 Che... Non andrà troppo dietro! Vado avanti con l'appello, stiamo a Silvestrini Luigi dentro un servaggio! Un servaggio! Un servaggio! Allora, poi Ricciolini Giorgio! Grandissimo Grandissimo in tutto Anche il gioco a pallavolo Soprattutto Zampolini Piero Dove è stato? Allora Chi è che lavora ancora come me? Questo nuovo dei pochi che lavora ancora Chi lavora ancora? Chi lavora ancora?